...che prendeva il latte assieme alla macchina, e con lui. Il 1799 è stata una vicenda importantissima. Dopo il 1799 le cose non sono state in tutto venute. E la genesi di quello che accade, e cioè le conseguenze di quello che accade nel 1860, trova la sua genesi proprio nel 1799. Ci sono state anche delle compie e lavorate qui ancora poco. Sì, ci sono state delle compie e lavorate qui ancora poco. Ciò non significa però che dobbiamo continuare a risaltare un esperimento fallito da quella della Repubblica, da Poletà, che dura solo sei mesi e che non va a lasciare assolutamente delle attestazioni tangente. Questo non significa, non significa prendere delle distanze perché si è partigliati, perché si è costantici del bel tempo che fu. O per altri casi, si è ricordata, la parte del timore attuale. La storia è stata scritta dai vincitori, purtroppo non lo sappiamo. Basta leggere però la metà e basta leggere anche l'acronomo, il dondo medico metromanzi, per rendersi conto di quello che è veramente accanto e di come ancora siano veramente ormai non si tollerà delle semplificazioni che ormai anche dei fungessari, degli accadei e degli atenei si continuano a rispondere. Grazie. Grazie.